Autore dei scriviti e revisione a cura di QTSS 1774 c'è scritto sulla carta che a casa è io compro a chilometro e vendo un metro compro la stoffa a chilometro e vedo un metro la terra insomma non la stoffa l'unica cosa al mondo che ce l'è sempre di meno la terra